SON CLAP! 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 Oggi penso io, oggi penso io questo bum 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 oggi penso io ti faccio vedere questa signora bella l'ho comprato dei cinesi, tutta la signora questa accende tv ho comprato dei cinesi ma che non sta accendo? e poi accenditi accenditi dai prova! AAAAAAHHHHH che cos'è? che cos'è? ma caldo zucchino? che cos'è? zucchino? è fuoco? ah non è vero sono bambieri bambieri aspetta ma no aspetta sei normale ci facciano bimì aspetta prendi il coperchio prendi il coperchio prendi il coperchio eccolo si stava quasi spegnendo aspetta aspetta ma che ci fai con quello? che ci fai con quello? prendi il pollo eh ma che ci fai con quello? prendi la papera ma che ci fai con la papera? ci penso io sono io sono io eh si che prendi tutto oh tocchina fermati che ci fai? chi sei? eh che ti rispondo? non parla è muto e se è un pulcino? ma se è un pulcino se ha paura il pulcino dai chiamiamo qualcuno quando fai aprire il pulcino ha paura dai chiamiamo qui io faccio la guardia ah ah facciolo qua esci e acciacqua la capoccia allora sento che scotta eh oh la lo tengo io la lo tengo io vai aprire la papina va piano eh come si chiama quella? no no come si chiama? come ti chiami? ho preso la straniera? signori il pentacolo è finito ci sono 57 i caniari la straniera è venuta a tutti signori me ne basso ma non c'è problema il giocchino multi multi essico what's your name? hi I'm Cianetta hai visto? come si dice vuoi? open open the door allora la porta open the copper se esce il pulcino io scappato ok? aspetta, io prendo il mattino italiano invece ma che erano non c'è il dialetto della mano allora allora mai open open one one two oh no no senta la terra one two go ah two one faccio una cosa tu con gli inglesi contro in italiano perché faccio un pulco di contatto un caldiscolo se vuoi lo faccio contare un chino albanese cosa si fa? mi hai due tre ho tato il pezzo faccio torno perché? per te? io ho fatto un calito faccio scusami allora cosa fa? uno Allora io in italiano, tu in inglese Ah sì, one, two, three, three Non apre, non ti è detto open One, two, three, open Cos'è? I colori! Sono tornati i colori, figli, a forma di palla Ma è possibile, non c'era niente nel coperco Ci abbiamo messo pure il fuoco I colori! C'era niente nel pentolino Ecco, i colori del libro sono Ah, un applauso Brava, Elena, grazie Aposto Tuquina, è che la l'opesa No, la distocita E le citavo di No, la distocita Ah, citavo, sì Tuquina, però No, la distocita è la l'opesa No, la distocita è la l'opesa No, la distocita è la l'opesa No, la distocita è la l'opesa